Comune mio quest'oggi si trova in compagnia di Angela Muscolino, architetto, e parliamo del prossimo convegno che si terrà domani pomeriggio a Roccalumera, l'antica Filanda, organizzato dalla FIDAPA, sezione Santa Teresa di Riva, e si parlerà di imprenditoria femminile. Angela, tu sarai moderatrice, ma sei anche la coordinatrice dei lavori, e domani un tema importante si affronterà fra tutte le consociate, ma anche per tutte le persone che prenderanno parte, parteciperanno come pubblico a questa tematica importante, che riguarda non solo la nostra riviera, la riviera Ionica, ma tutta quanta la Sicilia. Si parlerà dell'importanza dell'imprenditoria giovanile, femminile, si discuterà sulle possibilità di finanziamento, del recupero dei fondi, si studierà quelle che sono le normative vigenti, e si farà attenzione su quelle che sono le capacità, le opportunità che la zona offre, può offrire a giovani donne per fare mercato, per recuperare anche antichi mestieri, rivalutarli e quindi fare oggi impresa. Domani chi prenderà parola all'incontro promosso dalla FIDAPA, sezione Santa Teresa di Riva? I saluti non mancheranno, saranno quelli della Presidentessa? Allora, domani, intanto buongiorno, saluto tutti quanti, ci sarà la Presidente della sezione di Santa Teresa di Riva, Antonella Maimoni, dottoressa Antonella Maimoni, la dottoressa Leonora Caserta, se non potrà essere presente comunque manderà in rappresentanza o qualcuno del distretto, perché domani sera ci saranno tanti altri eventi, purtroppo si accumulano tutti in questo periodo. Ci saranno poi dei relatori illustri, abbiamo infatti l'assessore regionale Michela Stancheri, al turismo, con la quale parleremo di quelli che sono gli strumenti a supporto di un reale sviluppo turistico. Quali possono essere questi strumenti? Possono essere i bandi, possono essere innanzitutto i bandi ovviamente passi dalla comunità europea, che come sappiamo benissimo punta moltissimo sui giovani, soprattutto sul recupero di quello che è il nostro tessuto, sia urbanistico che sociale, esistente, senza puntare sull'uomo. Quindi noi pensiamo appunto che quello che si potrà fare per la nostra sicilità è quello di recuperare tutto ciò che abbiamo di bello, dai beni culturali, dalla promozione dei beni culturali alla promozione degli antichi anche mestieri che vanno a scontare l'uomo. Ci sarà anche la presenza di Beatrice Briguglio? Beatrice Briguglio è una europrogettista, si occupa di progetti europei, è chiamata diretta, è stata parecchi anni a Bruxelles, si muove in continuazione con i paesi europei, dalla Russia alla Spagna, Portogallo, Grecia, dove si occupa appunto di questi progetti, soprattutto di partenariato, cioè questi scambi culturali, anche vogliamo dire di impresa tra le varie giovani di varie nazioni. Ci sarà la presenza anche della Marisa Moltisanti? Benissimo, la senatrice, è stata senatrice per bene un quattro volte, di famiglia illustra, imprenditrice, non so cosa dire su di lei, ha tutte le onorificenze possibili, immaginabili, perché non solo ha lavorato, si è occupata moltissimo di imprenditoria femminile, ha promosso quelle che sono le caratteristiche appunto delle donne, le potenzialità delle donne, però ha lavorato anche da senatrice promuovendo delle leggi che potessero andare incontro alle donne Quindi domani la signora Moltisanti ci illustrerà delle normative di riferimento, quindi un tema molto importante per tutte le persone che hanno interesse e volontà ad aprire un'impresa. Quello che vorrei puntualizzare è che noi appunto non abbiamo voluto fare il solito convegno dove si parla delle difficoltà che abbiamo noi donne a fare in presa, Abbiamo voluto dare un taglio tecnico a questo prototipo in modo tale che ci siano effettivamente degli spinti o dei riferimenti per agevolare l'accesso all'impresa delle donne e i giovani. Esempi presenti domani ci sarà la Cambiavini e le vie del padrino. Le vie del padrino e poi ci saranno, che faranno un piccolo intervento, e poi l'ensiastone che è la nostra rappresentante a livello internazionale per l'agricoltura, ovviamente per la fidata. Serena Spadaro, che è una giovane imprenditrice, insieme a Giovanni Dono, hanno organizzato e promosso questo tour enogastronomico di via del padrino e poi esporranno delle ragazze, delle giovani imprenditrici, che hanno fatto dell'artigianato un vero lavoro. L'appuntamento sembra corposo, diamo le indicazioni Antica Filanda-Rocca Numera a partire dalle ore 17. Ma l'imprenditoria oggi, come vengono scelte, a quale idee vengono principalmente valorizzate e quindi poi portate in campo a termine? Come vengono scelte le idee da valorizzare? Secondo me le ragazze, le giovani adesso sono più oculate della nostra generazione, delle donne delle ragazze della nostra generazione, perché non scelgono solo per passione, scelgono in base a quello che c'è sul territorio, alle opportunità. Quindi c'è prima un esame del mercato? Secondo me valutano prima il mercato, quali possono essere le potenzialità e poi hanno una scelta, che può essere quella del turismo, può essere quella dell'artigianato, il recupero degli antichi mestieri, come la realizzazione di lavori all'incimento, oppure il legno, la tessitura, ecc. e poi tutto questo viene legato ovviamente al turismo, a quello che possono essere i liberali. Quindi domani possiamo dire che è interessantissimo non perdere l'appuntamento. Penso proprio di sì. Grazie Angela e buon lavoro. Grazie a te, buona giornata.